Sarà esattamente così, diverso perché ci sono io con me stesso e essendo la prima volta sarà un'esperienza diversa, quella di entrare in un teatro così storico, così importante, pieno di passato, di cultura, pieno di futuro anche. E quindi me lo vivrò in punta di piedi, penso, e questa è la figura che sto vedendo in me, quella di entrare piano per non svegliare nessuno.